La mia figlia, quando aveva 4 anni, ha chiesto una maglietta della sua squadra di calcio, che è il Barcellona, e noi gliel'abbiamo regalata. Questa è entrata in classe il giorno del suo compleanno con la maglietta e la maestra non le ha fatto neanche gli auguri e le ha detto perché sei vestita da maschio oggi? Da quel giorno lei non è stata più libera di mettersi quella maglietta, non l'ha più voluta, non l'ha più portata a scuola. È stata un'autocensura molto molto forte che le ha fatto chiedere, nonostante avesse 4 anni, perché una femmina non potesse portare una maglietta di una squadra di calcio? È un tipo di violenza lieve in qualche modo, che però è stato per lei un indirizzo di direzione molto molto forte. All'interno della libertà ognuno potrebbe essere libero di fare quello che vuole, poi tutto deriva da retaggi culturali. Andiamo a dire una cosa del genere in Scozia, sulla gonna ai maschi. Perché io posso cambiare il colore dei capelli? Posso andare in giro con i capelli blu? Io posso anche andare in pantaloni al limite o un ragazzino non mi può venire con la gonna se ci sta comodo. Ai bambini si richiede di essere attivi, creativi, dinamici, in qualche modo virili già da molto piccoli, di proteggere e quindi di inserirsi già dalla scuola dell'infanzia in un ruolo che poi li trascina. A volte, poi chiaramente quando si cresce ci sono anche tanti altri fattori, però a volte li trascino in una deriva assolutamente patriarcale. Da genitore di due figlie più grandi ero con tutto un repertorio di pratiche e di differenze che mi sembrava importante. Poi è arrivato invece l'ultimo piccolo, a cui noi abbiamo fatto tutta una proposta di libri di un certo tipo, di attività di un certo tipo, ovviamente lui si è vissuto la sua fase invece di guerriero, cavaliere che tutti vuole uccidere e tutti vuole comandare, ma è stato divertente anche quello. In realtà il valore del gioco è quello, l'importante poi anche lì è come vengono visti i rapporti di forza, i rapporti di convivenza. Io e la mamma continuamente diciamo che l'unica guerra che ci piace è quella per gioco, e lui si guarda e dice sto giocando, sto giocando. I bambini arrivano perché è frutto di derretaggio anche familiare, già con i loro preconcetti. Questa cultura del possesso, della necessità di controllo, della necessità di protezione anche non richiesta, è una cultura che viene assolutamente imposta e viene imposta da un certo tipo di educazione. Non appena una ragazza, una donna, una bambina esce fuori dagli schemi che gli sono dati, rischia di mettersi in una situazione di pericolo e di subire una qualche violenza. Credo che i ragazzi e le ragazze invece vadano in qualche modo educati a capire che i problemi si risolvano dalla radice della vita. La radice della violenza di genere è una cultura sbagliata. Le figlie femmine, la cosa su cui noi cerchiamo di orientarci è proprio non seminare la paura, per cui cercare di andare sull'autoresponsabilità, avere anche la capacità di leggere eventuali rischi, ma cerchiamo proprio di non indicare, spiegando cosa è bene e cosa è male, chi è il male e chi è il bene. Chiedi di passare la scopa, questa è la femmina, e chi lo ha detto? Se stiamo insieme, hanno sporcato solo le femmine, no? Abbiamo sporcato tutti, quindi ripuliamo tutti. L'educare alle differenze è fondamentale e soprattutto se l'educazione inizia da quando bambine e bambini sono piccoli, molto piccoli. Porta a vivere poi la propria sessualità, le proprie scelte di vita in generale, in modo molto più sereno. E questa è assolutamente prevenzione della violenza. Le reazioni nei ragazzi sono molto diverse, per fortuna. Alcuni ne rimangono spaventati, altri ne rimangono attratti, però ecco, alla fine va sempre misurata la loro reazione sul lungo periodo. e sul lungo periodo, anche solo su un anno scolastico, sono concetti che loro interiorizzano, che fanno propri, e che diventano strumenti importantissimi per leggere la realtà, anche semplicemente per leggere un articolo di giornale. Il fatto che dei genitori siano in grado di ascoltare le richieste dei propri figli e delle proprie figlie, ci salva dalla violenza. Grazie a tutti.